Pizza con un po' di pata negra? 65 euro Senta, invece quella col tartufo? 49 euro 65, 15... 3,50 euro! Questa, questa voglio, sì! Quella è il caffè! Ah, quello è il caffè! Senta, ci pensiamo un attimo. Grazie, eh! Ma con tutte le pizzerie che ci stanno? Ma proprio da abbiatori da un uomo ministro a sera? Amore, qua la pizza costa di più, perché è senza lievito! Quindi lui risparmia sul lievito, e noi una pizza pagamo il quadruplo! Che ti devo fare? Un bel marzo di rose rosse per la signorina? No, grazie! Una conchiglia di bosillipo! No, grazie! Le pizze ce l'ha? E le teniamo sì! Belle, calde, espressi! Diavola, questa qua è una specialità! Oppure con la bufala e caserta! 3 euro la diavola, 2,50 euro con la bufala e 4 euro con i carrielli napoletani che se vengono da coppoli sui! Maestro, ce l'hai tu belle pizzette capricciose? Così se mangiamo qualcosa di buono ma stasera? Eh, la tenimmo capricciose, sì! Oh, questa sì che è una pizza, c'ha pure il cornicione! Amore, il briatore sarà pure un genio! Ma noi mica siamo più fregnoni di lui, eh!